Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Giorgia, ho 22 anni, perché sono qui? Perché ho intenzione appunto di aprire un canale e in questo video proprio di presentazione volevo un po' introdurvi di cosa tratterà. Il centro sarà proprio la vita in generale, perché mi piacerebbe trattare di beauty e di make-up, ma diciamo io non sono una vera e propria intenditrice e quindi vorrei dare dei pareri o comunque condividere la mia esperienza appunto dal punto di vista di una ragazza non esperta, perché su Youtube diciamo ho visto che in molte danno i consigli dal punto di vista però dell'esperto e io vorrei invece condividere la mia esperienza dal punto di vista della non esperta. Questo è anche un buon incentivo per me per curarmi un po' di di più, per usare un po' di più nella cura della persona, perché diciamo non ci ho mai perso più di tanto tempo. Poi potrebbe essere un modo per condividere i miei acquisti, i miei outfit o comunque appunto un modo per condividere. Infine io sono prossima alla laurea, tra un paio di mesi dovrei essere laureata in ostetricia e mi piacerebbe creare una rubrica, ora vediamo come va, magari iniziare tra un paio di mesi con questa rubrica, proprio con tutti gli argomenti incentrati sull'ostetricia. In realtà io ho iniziato a guardare Youtube e ho scoperto che su Youtube non si sentiva solo la musica, proprio perché volevo dei chiarimenti su argomenti prettamente ostetici e ho visto che sul canale, cioè sui tre canali non c'è molto, in realtà non c'è quello che intendo io fare. E quindi poi vabbè dopo mi sono appassionata a tutta una serie di ragazze, che però in realtà il vero e proprio motivo per il quale ho iniziato a guardare Youtube è stato questo. E quindi mi piacerebbe aprire questa rubrica. Insomma questo canale tratterà un po' di vita in generale, incentrato su me, la mia vita, sui miei acquisti, quindi sui le mie recensioni, tra virgoletti, io non sono nessuno, però mi piacerebbe condividere la mia esperienza con qualcuno che mi voglia ascoltare. Scusate ma c'ho una paura pazzesca nonostante che stia parlando con il mio telefono. Vabbè, certo. Perché? Perché aprire un canale? L'ho detto, è un buon incentivo per prendermi un po' di tempo per me, è un po' perché è uno spazio tutto mio, appunto investire sulla cura della persona, per magari dare dei pareri da un'inesperta, come dicevo prima, può essere anche utile a qualcuno. E poi per condividere le esperienze per conoscere, non che io ne abbia particolarmente bisogno, diciamo perché con l'esperienza universitaria che ho e che ho avuto quotidianamente facevo nuove conoscenze, però perché no? È comunque un altro modo di conoscenza. E infine, se riesco a far partire questa cosa, con questa rubrica prettamente ostetrica, mi farebbe piacere appunto essere utile, anche, cioè per me essere utile, anche solamente una persona che guarda quel video, cioè per me io ho vinto. E quindi questo vediamo se partirà, sono due cose un po' che iniziano parallelamente, diciamo così. Allora, perché iniziare proprio adesso? Perché sono in una fase un po' di stallo, no? Tra la laurea e il boh, cioè non si sa quello che ci sarà dopo. Era un po' di tempo che volevo iniziare, in realtà parecchio tempo, però non ci ho mai avuto il coraggio, un po' perché inizialmente la pensavo una cosa un po' infantile, cioè di solito iniziano prima le ragazze con dei canali, invece io arrivo così, bella fresca fresca. Quindi, boh, un po' perché pensavo, diciamo, c'ho un po' paura del giudizio delle persone, soprattutto quelle che mi conoscono, perché vai a spiegare, uno ha un canale su YouTube, che fai? Boh, vabbè, lasciamo stare. E poi soprattutto un po' per vergogna, per imbarazzo, per timore, perché comunque c'è, mi sento un po' credina adesso. Vabbè, vedremo. Comunque, credo di aver già annoiato abbastanza. C'è da dire che io non sono una tipa molto, come posso dire, molto social, perché non ho Instagram, Facebook lo uso molto poco. questo perché un po' mi vergogna nel pubblicare foto mie, però questo potrebbe anche, anche questa esperienza potrebbe essere un buon incentivo nel farlo. E un po' perché detesto il troppo esibizionismo, tu dirai, detesto il troppo esibizionismo e vuoi aprirti un canale su YouTube? Sì, vabbè, io sono un po' contraddittoria a volte, perché, vabbè, poi spero imparerete a conoscermi. Aiuto. Comunque, queste sono le mie sensazioni e motivazioni per avere il canale. diciamo, ho sempre rimandato, come dicevo prima, era un po' che ci pensavo, ma ho sempre rimandato. Adesso ho detto, nonostante non sia un periodo per niente, tranquillo, perché comunque sto scrivendo la testa, sto finendo il tirocinio, sono esaurita al massimo, infatti vedete la mia faccia. Ho detto, adesso ho mai più. e quindi niente, spero, spero volete seguirmi e spero che questa esperienza mi porti comunque a conoscere nuove persone, a se posso aiutare qualcuno e prima che ci ripenso, chiudo. Allora, io non so come andrà, ovviamente spero bene, però alle brutte brutte continuerò a parlare sola con il mio telefono e... e pace, così ho iniziato, così continuo. E vi ringrazio per aver visto questo mio primo video, mi scuso per la voce, non lo so, aiuto. E vi mando un bacio e ci vediamo presto, molto presto. Ciao! Grazie a tutti!